Cos'hai combinato stanotte? Che cazzo vuoi da me? Massimiliano? Massimiliano? Preferisci per lei col papà? Perché hai tornato? E non hai di buon umore. Guardami negli occhi. Hai guidato ubriaco? Sei l'incoglionita, ti ho detto che mi hai ribadato serena? Non parlare così, per favore. E poi sei tornata a casa da sola? Non fare una battuta idiota. Non è una battuta, no? Perché sei così nervosa? E tu dove eri ieri sera? Sei così preoccupata? Perché non sei venuta a prendermi tu? No, cazzo! Non hai risposto alla mia domanda. Chi ha riportato questa macchina? Boh, uno dei carosetti tipo. Quale? Non parlarmi in questo modo, per favore. Hai capito? Comunque stasera mangiamo tutti e tre insieme col papà e parliamo, va bene? Che bellezza! Ok. Molto.